Doc, nelle tue mani due, il riassunto dell'ultima puntata. Andrea Fanti viene indagato per la questione di Lorenzo. Di conseguenza, tutti pensano che sia stato lui a staccare la bombola, rischia di perdere il primariato per sempre e anche di non poter più fare il medico. Nel frattempo, arriva in ospedale un ragazzo molto giovane, fa l'accademia militare e ha dei genitori molto severi. Ha paura che il padre lo tratti come un appestato. Grazie ad Andrea si viene a scoprire che il giovane ha la lebra, che ha contratto da bambino molti anni prima quando viveva in Brasile. La malattia era rimasta latente a lungo prima di esplodere. Gabriel torna a Milano per un progetto che coinvolge sia l'ospedale Ambrosiano che l'ospedale dell'Africa. In ospedale, diversi pazienti iniziano a stare molto male, hanno delle gravi polmoniti e rischiano di morire. Tutto il personale sanitario, i medici, gli infermieri, gli OS e i pazienti di medicina interna vengono messi in quarantena. Sono stati tutti attaccati dalla KPC, un batterio molto pericoloso che generalmente porta al 50% dei decessi, in quanto è molto resistente agli antibiotici. Riccardo è il primo dei medici a stare male, perde i sensi e viene ricoverato. Alba veglia su di lui tutta la notte. Doc capisce che l'unica possibilità è un antibiotico che è stato tolto dal commercio. 52 persone in totale sono state contagiate dalla KPC. Senza antibiotico, statisticamente 26 sarebbero morti. Il rischio però è che crei gravi danni epatici. Per questo all'inizio Giulia è tentennante, ma alla fine decide che non c'è altra possibilità e dà retta ad Andrea. Riccardo infatti si sveglia, recupera in poco tempo, ma anche Alba è in gravi condizioni per la KPC, così le viene dato l'antibiotico che è fuori commercio. Riesce a sconfiggere il batterio, ma l'antibiotico le danneggia irreversibilmente il fegato. I colleghi cercano di capire se tra di loro c'è qualcuno che ha il fegato compatibile per il trapianto, ma purtroppo non è così. La dottoressa trascorre gli ultimi momenti insieme a Riccardo e ai colleghi e dice che alla fine si è iscritta a medicina solo per poter stare vicino alla madre, madre che però è morta pochi mesi prima. E Alba è il terzo personaggio di questa stagione che perde la vita. Nel frattempo Cecilia e Agnese hanno collaborato per capire quali fossero i reali interessi di Caruso e hanno scoperto che era un corrotto. Prendeva le tangenti da una multinazionale e questa multinazionale era la stessa che forniva le bombole. Per alzare il prezzo sulle bombole, aveva fatto arrivare in ritardo volontariamente le bombole durante il Covid. E Lorenzo è morto per questo. Arriva quindi la polizia in ospedale, accompagnata da Agnese, ma questa volta è contro Caruso. Elisa e Gabriel capiscono di non poter più fare a meno l'una dell'altra e così si sposano. Ovviamente sarà massimo celebrare il matrimonio. Sono trascorsi diversi mesi e finalmente Doc torna ad essere primario. Finisce così la seconda stagione, una seconda stagione che ha preso molto spunto dalla realtà.